Ecco, altra rete, sempre Mata, Mata, tripletta di Mata. Risultato 6 a 3 a favore della Virtus Casteprendrano. Tripletta di Tei di Mata e tripletta di Gianluca Malvone. 3 a 3. Adesso il mister Gabriele ha fatto alzare i ragazzi della panchina che si stanno riscaldando. Ecco Enrico, Manuele che si stanno riscaldando, preparando a fare il loro interno. Ecco, Caran, Fabio Masciarelli, Cirillo Bartolo. Ecco, Nicolò. Nicolò. Posto. Ecco che si preparano a riscaldare i nostri ragazzi. Si. Ecco. Mettono. Ancora, bella passata.